Con la premessa, Giacomo Punta appunto già fa questo di mestiere da non poco, quindi nel tuo intervento magari condividisci tutto quello che ti senti di condividere del tuo mestiere. Grazie. Noi siamo qui per parlare di questo corso che stiamo preparando, sul quale stiamo lavorando. Si tratta di un corso che riguarda la radiofonia a 360 gradi. Questo significa che andremo a toccare tutti i punti, a toccare quelli che sono i passi necessari all'apertura, i passi da compiere per poter aprire una radio su web, diciamo il percorso iniziale migliore. Parleremo di un sacco di cose a partire dall'ABC della radiofonia. Faremo anche dei brevi cenni senza voler essere particolarmente pesanti o noiosi, cenni storici che riguardano un po' come si è evoluta la radio fino ad oggi. Ho pensato di aggiungere questo punto perché credo che possa essere interessante parlare anche di quello che è successo in questi anni e di come si è evoluta e la velocità in cui si è evoluta la radio in pochissimi anni. Parleremo dei formati radiofonici. Esistono tanti tipi di formati in base al pubblico al quale ci si vuole rivolgere. Per fare un esempio esiste la radio puramente parlata che si concentra moltissimo sui contenuti ed esclude completamente la musica. Esiste la radio che propone successi, soltanto successi del momento. Andremo a toccare e a dare un nome anche a tutti questi formati per poterci rendere conto anche di che tipo di radio si ha intenzione di realizzare. Parleremo naturalmente anche di tutto quello che riguarda il mondo della postproduzione. A partire dalle sigle, da quello che riguarda il montaggio dei jingle, station, tutto quello che è necessario per poter mettere in onda un programma di qualità che non sia monotono e che non possa dare spazio a eventuali critiche date dalla ripetizione di determinati montaggi. Quindi sbagliando, perché sarà comunque un punto focale, lo sbagliare trovo che sia una cosa sempre molto importante, sbagliando impareremo ad avvicinarci a questo mondo che, come diceva Lidia, nasconde un sacco di cose nel dietro le quinte che vanno considerate. Parleremo di... dunque, io qui ho un sacco di cose, me le sono segnate, rischio di dimenticarmi delle cose, sono uno con la memoria un po' vagante. Porremo un accento molto importante sulla web radio. La web radio è un discorso che affronteremo ovviamente dopo aver toccato i punti fondamentali che riguardano la radio. La web radio non è altro che una costola della radio in FM, quindi è impossibile poter affrontare il discorso web senza toccare i punti fondamentali della radio tradizionale, se vogliamo. Cos'altro? Parleremo tantissimo delle strumentazioni che si utilizzano all'interno di una realtà radiofonica, quindi i software di messa in onda, i mixer che vengono utilizzati all'interno delle varie realtà radiofoniche anche per la messa in onda, quelli per la post-produzione, che a volte possono essere anche gli stessi, ma non è sempre così, non è una regola. E parleremo delle varie categorie, le varie categorie dei brani. Diciamo che la scaletta musicale è figlia della programmazione musicale. Ogni brano, per farvi un breve esempio, deve essere categorizzato in modo che nel momento in cui si va a programmare la scaletta, cioè tutto quello che succederà all'interno dell'ora tipo, da mezzogiorno a luna, per fare un esempio, viene dal lavoro del programmatore musicale che, coordinandosi con il direttore artistico, decide a quale punto posizionare i vari brani. E quindi c'è uno studio importante anche su questo, naturalmente. Parleremo di clock. Il clock è esattamente quello che ho accennato poco fa, cioè l'ora tipo. Cosa succede all'interno di un'ora? Che può essere, come ho detto, da mezzogiorno a luna. Dove sono posizionati i vari blocchi pubblicitari? E perché vengono posizionati su quei punti? Esistono dei motivi, in base al tipo di radio che si vuole andare a proporre, il blocco pubblicitario viene posizionato in un certo punto piuttosto che su un altro, in base alle intenzioni della radio. E al tipo di identità che si vuole mantenere, al tipo di carattere che vuole avere la radio. Una radio di flusso, poi vi spiegherò cosa significa. Come, faccio un esempio, radio dimensione suono, posizionerai i propri cluster in un modo, i cluster sono i blocchi pubblicitari, chiedo scusa, è meglio che mi spieghi bene, in un modo diverso da una radio di solo i contenuti parlati, come può essere Radio 24, per intenderci. Non so se lo potevo dire, visto che siamo in diretta, ma credo che sia già andato in onda. E quindi purtroppo è andata. Non lo dico più. Parleremo della differenza che c'è tra le radio private, quelle nazionali, capiremo come le pubblicità che sono importanti, sia per quelle private che quelle nazionali, si possono distribuire all'interno di diverse regioni. La radio privata può distribuire la sua pubblicità regione per regione, ammesso che sia interregionale. E questo è un punto sul quale ci concentreremo, per poter permettere a tutti di capire bene come funziona questo mondo. Inoltre un'altra cosa importante sulla quale ci concentreremo sarà il montaggio, il montaggio vero e proprio sia di, come dicevo di sigle, e mi interessa ricordare, ora che mi viene in mente, il fatto che in coda ad ogni lezione che faremo, io darò la possibilità agli iscritti di poter provare. Io assegnerò degli esercizi che loro potranno poi provare e saranno sempre strettamente in contatto con me, in modo che io abbia la possibilità di correggerli e poi di arrivare a un risultato finale che sia soddisfacente. Abbiamo detto delle cose, abbiamo detto tante cose, ci acceneremo anche, ci saranno dei cenni sul DAB, che comunque è un sistema di trasmissione che è già attivo su alcune radio in FM, la differenza è che ora stiamo ascoltando delle radio che si ascoltano in qualità digitale, quindi molto migliore. Andremo a toccare questi punti tecnici senza però appesantire, cercheremo sempre di essere più flessibili, tra virgolette, elastici possibile. Questo è quanto, noi avremo tempo, avremo modo di approfondire molto insieme agli iscritti questi argomenti, che loro avranno certamente la possibilità di chiedermi cose, farmi delle domande su cose che magari non sono particolarmente chiare, saranno in contatto con me H24, tranne i momenti in cui chiaramente avrò bisogno anch'io di riposare. Per il resto, ecco, questo è quello che stiamo facendo. La cosa che mi interessa molto sottolineare è il fatto che, al di là del lato tecnico, noi ci vogliamo concentrare molto anche sulla passione per questo mestiere che cercherò di trasferire a loro attraverso anche racconti che possono poi essere utili allo svolgimento del mestiere. Vedi, questa cosa è successa già, ma ora so come risolverla, per fare un esempio. Quindi questi saranno i punti focali su cui ci concentreremo molto. Promo, che sono appunto dei montaggi promozionali, tu ne sai qualcosa, mi sembra di capire, dei messaggi promozionali che sono tesi a pubblicizzare il programma all'interno della radio o pubblicizzare un cliente esterno che ha bisogno di una pubblicità posizionata in quel punto del clock. Questo è quanto, se, non so, io sono aperto a ogni tipo di risposta, se avete qualche curiosità sono apertissimo a rispondervi. E per il resto, ecco, mi sembra di non aver dimenticato nulla. Sintetico e chiaro, sì, questo è sempre i tempi radiofonici. Esatto, quindi questo è quello che affronteremo. Prego. Visto che fai questo di mestiere, hai già qualche, come dire, non voglio dire aneddoto perché mi sembra un po' come dire qualcosa che va oltre, qualche piccolo consiglio, come dire, lasciamo perdere adesso il programma, non stiamo ovviamente qua facendo una lezione perché poi c'è bisogno di una serie di, come dire, strumentazione e quant'altro. Però hai già qualche piccolo consiglio che puoi darci per chi sta iniziando adesso questo tipo di attività. Quindi, come dire, in un approccio di voglio fare questo di mestiere, sì, però poi l'aspettativa di una persona con il lavoro concreto è lo stesso. Cosa bisogna, come dire, saper affrontare sin dall'inizio? Diciamo che la cosa principale da saper affrontare in un momento un po' come questo, che comunque conosciamo tutti, è la capacità di essere un po' manager di se stessi, se vogliamo affrontare un discorso radiofonico, su web specialmente. Il consiglio che mi sento di dare a chi ha intenzione di intraprendere questo mestiere è certamente quello di non fermarsi alla prima difficoltà perché certamente con la costanza, sembra una frase fatta, ma credo che sia così, purtroppo è così, certamente dei risultati si otterranno in poco tempo. Chiaramente tutto è legato alle capacità della persona ed ecco che qui subentro io. Sto scherzando. Ecco, questo è quello che mi sento di consigliare. Diciamo che non ci sono consigli mirati per via del fatto che ogni realtà ha a sé. Quindi ci sarebbe bisogno di rendersi conto di quale realtà stiamo parlando, di come si ha intenzione di affrontare, a quale pubblico ci si vuole rivolgere, a tutta una serie di fattori che a naso è impossibile prevedere. Quindi una volta stabiliti con chiarezza e precisione gli obiettivi, è importante proseguire su quella linea senza mai cambiare stile in base ai gusti attraenanti delle persone perché siamo noi, a dare modo alle persone di seguirci attraverso il nostro gusto. Cerchiamo di... Prego. Prego, no, no, prego. Avevo già finito. Sì. Cioè i tempi della radio sono diversi da quelli della televisione perché in TV c'è il movimento, eccetera. Come... A mio avviso sono più veloci quelli della radio. Quindi come riuscite a gestire, diciamo, tempi così brevi e tenendo l'audience alta e poi riuscendo chiaramente a parlare come riuscite. Cioè l'allenamento... Beh, diciamo che questo rientra molto nelle competenze dello speaker. Diciamo che la bravura dello speaker è il pilastro fondamentale. Nel senso che lui sa di avere a disposizione, lui barra lei, chiaramente, sanno di avere a disposizione quei venti secondi di intervento e cavalcano l'onda del brano senza togliere ritmo all'intervento o al tipo di radio che si propone. Come facciamo? Non glielo so dire. Nel senso che diciamo che si tratta di una questione anche un po' di abitudine nei confronti di questo mondo. È chiaro che è vero che la televisione ha dei tempi molto diversi perché giustamente c'è la gestualità e tutto il resto qui. È tutto concentrato sulla voce. Sulla voce che chiaramente è supportata dall'aspetto tecnico. Quindi diciamo che si crea una fusione tra tecnicismo, tecnicismo se posso usare il termine e spicheraggio. È una questione di allenamento come dice lei. Ci sono tantissime persone che tuttora, essendo magari arrivate ad altissimi livelli professionali, tuttora si esercitano su tante cose dal punto di vista anche di articolazione per poter essere più chiari possibile durante la messa in onda. Diciamo che ecco, questo è quello che... Certo. Certo. No, è interessante. No, è vero. No, noi come ci regoliamo? Ci regoliamo attraverso... Non abbiamo un pubblico fisico, nel senso che non abbiamo un rapporto fisico, ma c'è una coscienza, c'è una coscienza nel senso che abbiamo comunque delle risposte da parte del pubblico. Riceviamo sms, messaggi, quindi noi li invitiamo ad interagire su programmi che prevedono questo tipo di interazione. Quindi non è vero che non abbiamo il feedback, la risposta da parte dell'ascoltatore. sappiamo che c'è. Sappiamo che c'è. Molto spesso ci capita anche di dover bloccare la linea telefonica per poter lavorare, visto che la quantità di telefonate rischia di intasare tutte le linee. Quindi sì, abbiamo in realtà un confronto reale con il pubblico. Esiste e ce ne accorgiamo specialmente quando ci lanciano dei concorsi per dei giochi, a premi o cose così. Capita spessissimo che non riusciamo a gestire la quantità di telefonate in arrivo. Quindi c'è. E poi c'è un'altra cosa. Sì, sì, no, così. Tanto perché giustamente nel parlare poi vengono in mente delle cose. È diversa anche, secondo me, la prima cosa che si va in analisi quando poi si prende il microfono e si sale sul palco oppure si fa un discorso radiofonico. E la percezione proprio anche del momento di vuoto. Pausa. L'eternità. Mentre invece se stiamo mangiando a tavola magari passano due minuti e non ce ne accorgiamo. Quindi la prima cosa che per rispondere anche alla sua domanda volevo così interagire anche un po' insieme è proprio anche avere la coscienza io l'ho chiamata così simpaticamente e rendersi conto anche ascoltarsi in questo caso di quello che si sta dicendo e dei momenti proprio temporali che passano. L'equilibrio però è anche la pausa è fondamentale. Anche il momento di silenzio magari nella radio un po' meno un po' meno e un discorso invece magari televisivo piuttosto che appunto anche su un live a volte un secondo di pausa 30 millesimi di secondi di pausa nella radio no. Ecco perché è fondamentale l'articolazione delle parole per non rischiare di mangiarsi le parole. Cosa che peraltro capita spessissimo il fatto di incartarsi su una parola e non riuscire ad uscirne vivi. Quindi non è una cosa impossibile non succede assolutamente nulla gli errori ci sono e non ci sono problemi. È vero che le pause in radio sono vanno calcolate ecco vanno calcolate perché comunque avendo come strumento soltanto l'orecchio per forza di cose abbiamo bisogno di contenuti in radio altrimenti uno comincia a pensare ma si è spenta la radio e quindi questo è quanto. Tutto chiaro? Grazie. All'indole della conduttrice la signora momento di pausa è finito applauso grazie anche a te Giacomo sì c'è una domanda la differenza tra una radio in FM modulazione di frequenza e quella su web è minima perché gli strumenti che vengono utilizzati per la messa in onda in FM sono esattamente gli stessi che vengono utilizzati per la realtà su web quindi la differenza sta soltanto nella diciamo nell'ampiezza della trasmissione come dire nel bacino di utenza che se se la radio in FM ha una copertura benissimo che vada nazionale la radio su web ha una competizione mondiale quindi questa è la differenza questo fondamentalmente diciamo che gli strumenti che vengono utilizzati sono sono gli stessi che vengono utilizzati in FM la differenza sta rientra soltanto nel nel modo in cui si trasmette ecco beh certamente per la radio su web i costi sono molto minori sono affrontabilissimi ok io ogni volta che qualcuno mi chiede come posso aprire la mia radio su web sconsiglio vivamente di affrontare una spesa per la strumentazione che sia così enorme perché non è necessario proprio abbastanza inutile diciamo armarsi con con strumenti che molto simili a quelli di grosse radio perché non è diciamo che non c'è applicazione quindi i costi sono molto più limitati per quello che riguarda la radio su web dimostrazione nel fatto che ne stanno nascendo tantissime al secondo in tutto il mondo questo è sintomatico del fatto che è ancora possibile chiaramente a breve subentrerà una forma di controllo di tutte queste nascite su web per il momento è libera sì è libera per il momento è libera ma chiaramente per ovvi motivi si dovrà per forza fare i conti con un regolamento che limita a livello burocratico diciamo che è tutto molto piuttosto semplice perché si tratta di semplicemente prendere contatto con CAE SCF che sono i vari alla quale comunque vanno riconosciuti dei costi di trasmissione dopodiché bisogna armarsi certamente di un server che possa contenere i vari brani a disposizione e in breve tempo una volta ottenuto il proprio host il proprio sito come se si volesse aprire un sito internet il proprio player si può cominciare a trasmettere armandosi chiaramente di un programma di messa in onda che non ne esistono milioni non milioni forse un po' esagerato ne esistono tantissimi e per tutte le tasche quindi è chiaro che poi in base a quello che si fa spendere un po' come tutte le cose si può arrivare a una facilità di gestione del software maggiore rispetto ad altri ma diciamo che comunque i costi e la prego di credermi non sono non sono veramente sono veramente bassi rispetto a una realtà in FM che lasciamo presuppone strutture presuppone frequenze personale spalle larghe dal punto di vista economico perché attualmente e non soltanto oggi ma non soltanto oggi le frequenze hanno dei costi molto alti sì sì ok volevo aggiungere anche un discorso che spesso quando ci arrivano anche richieste di preventivo noi offriamo anche un servizio di appunto streaming e spesso lo stesso servizio ci viene chiesto per fare appunto trasmissione in questo caso dati per quanto riguarda la creazione di portali esatto con all'interno l'installazione di web radio io faccio sempre una prima domanda ma mi state chiedendo di creare un portale con all'interno una web radio benissimo ma avete pensato a tutto quello che c'è prima di poter pensare alla trasmissione perché molte volte esatto non si pensa alla cosa più semplice ok ma un piano di programmazione c'è cosa intendete realizzare a livello organizzativo cioè perché è importante se si vuole giocare allora ok uno si mette lì con quattro soldi si fa il suo programmino quando c'ha voglia quando ha tempo ma ovviamente rimane circoscritto ai propri quattro amici se invece bisogna creare un discorso di web radio e quindi anche poi farlo diventare come uno strumento di come dire anche di vendita se vogliamo perché nel momento in cui soprattutto un portale inizia a creare utenze e quindi ascolti diventa a tutti gli effetti uno strumento di vendita a quel punto bisogna anche munirsi di una cadenza di una sostanza esatto di tanta tanta sostanza capire se si è in grado di gestire delle dirette oppure se fare solo un nuovo podcast o magari esatto quindi l'argomentazione sul creare una web radio è semplicissima però bisogna come dire stare molto attenti ad alcuni punti diciamo per partire bene in fondo al termine del corso ci sarà la reale possibilità di affrontare un discorso lo workshop un discorso live in radio sarà possibile osservare la giornata tipo dello speaker o del tecnico esatto cosa sta facendo mentre lo fa e quindi ci sarà chiaramente anche la possibilità di chiedere di informarsi di capire ancora meglio ancora più a fondo il mestiere e come viene gestito in una giornata normale di lavoro a Grazie a tutti.